Settimo giorno di sciame sismico che, poco dopo la mezzanotte, ha rialzato la sua intensità registrando una nuova scossa di magnitudo 3.5 con l'epicentro confermato a largo delle nostre coste. Settimo giorno anche di controlli serrati dei vigili del fuoco che hanno superato i 1200 sopralluoghi e hanno dichiarato inagibili 43 edifici fra le province di Pesaro Urbino e Ancona, 23 nell'Anconetano e 20 nel Peserese. Città di Pesaro in cui casi più eclatanti sono la chiusura ai fedeli della chiesa dei Cappuccini e la chiusura di Via della Robbia con evacuazione di una trentina di persone, molte delle quali ospitate all'Hotel Cesar di Viale Trieste. Spada di Damocle su Via della Robbia è la ciminiera dell'antica fabbrica di ceramica e molaroni sulla quale il comune ha effettuato le verifiche con la soprintendenza che ne ha scongiurato vincoli. Dunque con l'accordo del soggetto privato proprietario dell'immobile si è dato il via libera alla rimozione cominciata questa mattina con la messa in sicurezza del tetto. I lavori sono presi questa mattina, si metterà in sicurezza prima i velux e i condizionatori, tutto quello che c'è sul tetto perché la ciminiera è alta più di 20 metri quindi è una struttura che magari vista da qua ha una percezione ma da dietro ha tutta un'altra percezione. Da giovedì mattina presumibilmente inizieranno le operazioni di smontaggio della ciminiera e i mattoni verranno in qualche modo non smaltiti ma sistemati in un deposito del centro operativo per poi pensare che cosa fare in un secondo momento. Noi contiamo, almeno per quello che ci ha detto la dita, in una decina di giorni di riuscire a mettere in sicurezza tutta l'area e di permettere alle famiglie di rientrare casa. Diciamo che qui abbiamo diverse famiglie coinvolte, alcune sono residenti in città, altre no, alcune hanno trovato alloggio presso amici e parenti, una ventina le abbiamo sistemate invece in una struttura alberghiera della città. Smontando l'antica ciminiera se ne andrà anche un reperto di archeologia industriale iconica per il quartiere nonché un simbolo della tradizione ceramista della città. Questo rappresenta ancora l'uso della legna quando si infornavano le ceramiche con la legna dopo si è passati al gas e all'elettricità. Diciamo che questo è l'ultimo simbolo dell'Ottocento perché la fabbrica è stata fondata nel 1880, 142 anni che è in attività. Questo è l'antico simbolo di ciò che rimane, di questi antichi usi della terra, dell'acqua e del fuoco quando il fuoco ancora dominava la ceramica e ne dettava la buona o una cattiva riuscita. A poche centinaia di metri un'altra ciminiera è risultata inagibile dopo i controlli. Quella dell'ex manicomio che ha portato alla chiusura al transito di via Massimi a pochi passi dalla biblioteca San Giovanni. In questo caso però non ci sono famiglie evacuate. È solo però un esempio del moltiplicarsi di danni che si rilevano con le progredire dei controlli. Il sindaco di Pesaro Matteo Ricci ha già stimato danni per oltre 20 milioni di euro e hanno oltrato richieste di stato di calamità a regione e governo. Se si considerano abbiamo un paio di chiese inagibili, palazzi storici inagibili. Ieri pomeriggio abbiamo sgomberato ed è pronta l'ordinanza già per sgomberare altre due famiglie in stata l'Adriatica. L'altra sera sono state sgomberate altre due famiglie in strada panoramica Ardizio, più le 10 persone che erano state messe in struttura dopo la prima scossa. I vigili del fuoco stanno facendo un lavoro straordinario che però non si sviluppa nell'arco di pochi giorni ma sarà un lavoro lungo e man mano che andiamo avanti purtroppo pensiamo che ci siano altre situazioni di criticità.